spettacolare è molto bello avere qua nei castelli di bellinzona una mostra che permette di vedere sì un contesto storico quello che ha fatto Leonardo ma d'altra parte che si sposa con l'interattività e questo mondo digitale del giorno d'oggi e quindi permette veramente a due pubblici di fare un'esperienza e di immergersi veramente nel mondo di Leonardo c'è una parte legata alla realtà tridimensionale io consiglio assolutamente di provarla perché è un'esperienza veramente diversa nonostante il tema di Leonardo può sembrare legato alla storia dell'arte questa è una mostra adatta per famiglie perché è assolutamente diversa è assolutamente un modo diverso per approcciare questo tema io sicuramente porterò i miei bambini vedere è un'esperienza di fare Grazie a tutti.